Ben trovati al NOTES di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto le curiosità di questa puntata. Nel 1902 crollò il campanile di Venezia. Un boato sordo rupe la serenità di una mattina d'estate con l'orologio che segnava le 9.50. Lì dove prima c'era il campanile di San Marco, ora si vedeva solo un cumulo di macerie, un'immane catastrofe che privò l'umanità di un monumento tra i più prestigiosi e secolari. Era stato costruito infatti nel 1511 dove amava tra l'altro recarsi il grande scienziato Galileo Galilei per osservare e scoprire i segreti degli astri. La ricostruzione iniziò il 25 aprile del 1903 e terminò nove anni più tardi. I colori come i lineamenti seguono i cambiamenti delle emozioni. Pablo Neruda La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire l'osservatorio Marsec sui Monti Lessini. Il Marsec è il nuovissimo complesso di studio, ricerca e divulgazione astronomica situato in provincia di Vicenza, a Marana, una frazione del comune di Crespa d'Oro. Il complesso, gestito dagli estrofili del Marsec, oltre alle due cupole destinate una alla ricerca e l'altra alla divulgazione scientifica, ospita un insieme di scenari che spaziano dalla geologia all'astronomia passando per l'astronautica. C'è anche a disposizione il telescopio solare che consente di osservare la nostra stella, il Sole, in tutta la sua bellezza. Dal Notes di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.